Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati per un nuovo allenamento insieme. Io sono Lorenzo, sport manager del club di Viera Vizza e oggi svolgeremo insieme Tabata, un allenamento ad alta intensità caratterizzato da intervalli. Vedremo insieme quattro circuiti, tolto il riscaldamento e il defaticamento, un circuito 20 secondi di lavoro, 10 di recupero e un circuito 30 secondi di lavoro, 15 secondi di recupero. Quindi il recupero sarà sempre la metà del tempo di lavoro effettivo. Il mio suggerimento per questo allenamento sarà svolgere all'interno dell'intervallo di lavoro, 20 o 30 secondi che siano, l'esercizio al 100% delle proprie capacità. All'interno invece del tempo di recupero, dell'intervallo del tempo di recupero, 10 o 15 secondi in base al circuito che vedremo, lì il recupero sarà fondamentale. Quindi come spingiamo 100% cerchiamo di recuperare 100%. Questo è l'essenza del Tabata, questo è il tuo allenamento di oggi. Ci sarà una musica che, tolto il brano 1 di riscaldamento, avrà un countdown. Quindi all'inizio e alla fine dell'esercizio e del brano ci sarà un countdown che scandirà il tempo. Detto questo, non resta che dirvi che cosa vi serve, semplicemente un tappetino per gli esercizi quando andremo a terra e tanta buona volontà per allenarci insieme. Bene, io direi che posso far partire la musica e siamo pronti a cominciare. Come anticipato partiamo dal brano 1, un brano di riscaldamento. Quindi inizia a correre sul posto. Essendo Tabata un allenamento ad alta intensità, anche il tuo riscaldamento sarà un riscaldamento accelerato. Da subito smuoveremo tutti i muscoli, muoveremo tutto il corpo e da subito ci divertiremo insieme. Rilassa le braccia, rilassa le spalle, muovi la parte sotto. Alza il petto, fai un bel respiro, preparati a sollevare le ginocchia. Da qui, skip alto, piano piano, su e giù. Up and down. Porta le ginocchia oltre le anche, inizia a muovere anche le braccia. Lo skip è una corsa. Su e giù. Opzione. Marcia sul posto. Come vuoi. La musica ti dice che sta arrivando il tuo esercizio preferito. Intensifica. Squat barpees. Squat, leg, squat and up. Questa è una tra le mie canzoni preferite. Così. Uno in più. Ok. Mani giù. Push up. Giù e su. Scendi e sali. Porta il petto a sfiorare il tappetino. Gomiti stretti. Scalda la parte superiore. Opzione. Appoggia le ginocchia. da qui in su. Affonda. Dietro. Cambio. Ok. Hai fatto la parte alta. Scalda la parte sotto. Alterta le gambe. Porta il ginocchio sempre più radente al suolo. Ok. Miei eroi. È troppo facile fin qui. La musica ti dice che puoi andare a toccare il cielo. Salta con me. Affondo saltato. Opzione. Continua. In un semplice affondo. solleva la pianta nel piede. Switcha la gamba quando sei in aria. Due volte. Uno in più. Ok. Shuffle tap. Shuffle. 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 Tap. Stai basso con le gambe. Stai basso con le anche. Tocca a terra. Shuffle. Tap. Ok. Un esercizio alla fine. Torna al centro. Corri. Skip alto. Go. Fino alla fine. Come iniziato riscaldamento. Lo finisci. Ma questo è uno sprint. Corri. 3, 2, 1. Riscaldamento terminato. Music please. Entriamo nel primo circuito. Tabata. 20, 10. 2 round. 3 esercizi. Li ripetiamo due volte. Primo. Mani alle tempie. Squat. Ruoto. Gli altri li vediamo dopo. Preparati. Musica. Voce. Squat e ruota. Qui lavora la parte bassa. I glutei e l'addome. Quando ruoti avvicina gomito e ginocchio. Direzione petto. Così. Secondo esercizio. Tappetino. Terra. Sit up frontale. 20 secondi. Andiamo sull'addome. Mani alle tempie. Go. Sguardo interno alle ginocchia. Solleva le spalle. Staccali dal tappetino. La nuca sfiora e torna su. Gli ultimi secondi. Stop. Girati. push up. Drop jump. Pronti? Start. Opzione. Ginocchia. Camminata. Come vuoi. Rapido. Addome. Parte alta. C'è tutto. Primo round andato. switch al secondo. Torna in piedi. Rewind. Squat e ruota. Go. Rispetto a prima, massimizza la rotazione. Ruota di più. Sali di più con le ginocchia. fuori l'aria quando ruoti. Più in giù con i glutei. Stop. Cappetino. srotola la colonna sul cappetino. Mai alle tempie. Impianta i piedi. Giù i glutei. Up and down. immagina una spugna. Quando sali, strizza l'addome. Quando scendi, rilasciala. aiutati con le braccia. Finci su. Girati. Adesso è l'addome andare in basso. Mani a larghezza delle spalle. Push up. Frog jump. Quindici secondi. Ricorda le opzioni. Sfiora con il petto il tappetino. Ok. Recupera. Primo circuito andato. La musica adesso ti farà partire il secondo. Circuito numero due. Tabata. 30. 15. Aumenta il tempo di lavoro. Aumenta il tempo di recupero. due round. Tre esercizi. Primo esercizio. Mani stile karate. Giù basso. Shuffle. Opzione. Senza mani in alto. Vieni su con le braccia. Corri. Laterale. Due o tre colpi. A destra. Due o tre a sinistra. Rapido. Ehi. Se guarda in alto. Non vedo le mani. Disegna un ovale con le braccia. Apri i gomiti. Tira su quel petto. Tira sulla schiena. Stringi l'addome. Resta basso con le gambe. Aumenta la velocità. Grazie. Tappetino. Recupera. Variante di prima. Sit up. Frontale. Braccia tese. Stimoli anche le spalle. Via. Ok. Sei in memoria? Ti ricordo che prima ti dicevo stacca le spalle. Ora stacca anche le braccia. Portale al cielo. in diagonale. Sei a metà. Spingi di più. Sali con l'impetto. Allinea la colonna. Girati. Guarda. Push up. Jack. Jack. Trenta. Parte alta. Spingi con me. Push. Jack. Push. Jack. Mani larghezza delle spalle. Sguardo tra le mani. Piedi in dentro e in fuori. Di più. Opzione. Appoggia. Apri. Come vuoi. Gli ultimi. Un. Tre andati. Un round. Riavvolgi il nastro. Ricomincia. Partita in piedi. Giù con i glutei. Giù con le anche. Su con le braccia. Corri. Tre passi. Tre passi. Vietato fare questo. Se guardi in alto non vedi le mani. Sono belle contratte. Sono belle alte. Stira il dorso. Così. Così. Meno di vetà. Veloce. Basso. Pulla se vuoi. Capitino. Vieni in posizione. Capitino. Recupera qui. Srotola. Guarda avanti in diagonale. Sit up. Braccia tese. Go. La pianta del piede. I glutei. Spingo la terra. Dall'anca in su. È tutto un lavoro. Fuori l'aria quando porti in alto le braccia. Recupera quando scendi. Una C. Che si curva e flette. L'ultimo. Capovolgiti. Tappetino. Terra. Push. Jack. Ricorda l'opzione. La vediamo insieme dopo. Mani larghezza delle spalle. Gambe tese. Push Jack. Ehi. Ma com'è l'opzione semplice? Ne hai una più intensa. Pugni. E vai. Senti come lavora tutta la parte alta. Ricorda l'opzione. Appoggia. Apri e chiudi. Scegli tu. Stop. Ehi. Anche il secondo è andato. Sei a metà. Del tuo allenamento. Ok. Stop. Inizierà il grano 3. Il terzo circuito. È quello più lungo. In quanto. Hai. Quattro round. Ogni round. Ha due set. E due esercizi. Guarda qua il primo. Trenta. Quindici. Primo step. Cardio. Skip alto. Opzione. Marcia. Preparati. Skip. Modalità. On. Via. Corri. Corri. Nel riscaldamento hai creato un link. Ora lo applichi. Ora quel link lo apri. E lo velocizi. Fai andare le braccia quanto le gambe. Tieni forte l'addome. Apri il tetto. Abbassa le spalle. Così. Stai prontando? Stai sudando? Stai sudando? Rallenta. Step 2. Camminata dell'orso. Te l'ho fatta vedere lenta. La devi velocizzare. 3, 2, 1. Veloce. E torna. Hey. Quello che abita sotto di te deve venirti a suonare. Perché fa troppo casino con le braccia. Mamma mia. Squat. Cammina e stai. Rientra. Lavora tutto il corpo. Stop. Torna alla musica di prima. Torna all'esercizio di prima. Skip alto. Si sta per partire. Boom. Respira. Rifiata. Corri. Ok. Se prima le ginocchia arrivavano qui ora arrivano qua. Sali. Sali. Su, su, su. Fuori l'aria. Mai apnea. 10 secondi. 3, 2, 1. Ok. Camminata dell'orso. 30, 15. Asciuga il sudore. Preparati. Sciogli. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go. Hai ovviamente l'opzione. Quando scendi, se vuoi appoggia. Torna su. cammina rapido. 3 passi almeno. 1, 2, 3. Stop. Ok. Essendo a metà circuito, modifichiamo. Primo step. 4 skip. 2 squat jump. Sai perché sorrido. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Skip. Veloce nel cambio di esercizio. Metà. Opzione. 4 marce. 2 squat. Stop. Potenziamo anche il secondo step. Camminata dell'orso. Push up. Quando sali fai un jump. Tra poco si parte. Via. Squat. Cammina. Push up. Rietro. Jump. Opzione. Cammina. Appoggia. Push up. Sali. No jump. No jump. 2, 3, 2, 1. Ricomincia. 4 skip. 2 squat jump. Macina energia. Corri. 2, 3, 2, 3, 4. Squat jump. Squat jump. Go. Corri di più. Salta di più. 1, 2, 3, 2, 3. 1 more. 1, 2, 3, 4. Piuttosto vai lento, gestisci, ricordando l'opzione, allena tutto il corpo, meno di metà, dai! Come stai? Come va? One more, 30, 15, 30 on, 15 off, due round, tre esercizi da ripetere due volte. Primo, gambe e glutei, a fondo jump, opzione, solo a fondo. Kandao, jump, com'è? Quanto fa bene questo esercizio? Ginocchio in basso, l'altro a 90, così, usa le braccia per la tua coordinazione. Ci sei quasi, dai! Dai, dai, dai! Stop! Capitino! terra, addome, sit-up obliquo, destra, sinistra, angolo della sala, via! sali tutto e ruota, quando sei a metà, il petto ha le ginocchia, gomito verso il ginocchio opposto! Fai sorridere l'addome! Ultimo! Ehi, girati! Mountain climber! mani in larghezza delle spalle, gambe tese, corri! Opzione, lento, opzione, ginocchia a terra, opzione mia, vai veloce! Se prima correvi con uno skip alto, ora corri in quadrupedia, blocca le spalle, blocca le spalle, stendi le braccia, ginocchia e cavine vicine, stringi l'addome! uff! Tutto chiaro! Tre esercizi da ripetere! Vieni in piedi! 30 secondi! Dissalti! Go! sempre più alto, o sempre più veloce, restando basso! Opzione, a fondo, posteriore, no jump! suda, suda! Ci sei quasi! meno, 2, tappetino, accomodati! Vieni a terra! si tappa, obliquo! quando sei all'età, ruota col bacino, ruota col tronco! più su! le labbra del tuo addome! fai vederli denti! quasi alla fine! recupera! girati! cardio! addome! spalle! c'è tutto! mani! mani! gambe! corri! ti ricordi nei push up? avevi l'ozione dei pugni! anche qua! stimola il tricipite! scegli l'intensità! alta! bassa! come vuoi! sbilancia il peso in avanti! una va, l'altra torna! giro di boa! stop! fai così sul tappetino! ragazzi! puoi cambiare la musica! puoi cambiare la musica! partire in una più tranquilla! un minuto di defaticamento e di saluti! come stai innanzitutto? bevi! asciugati il sudore! immagina già la doccia! ok! intanto! vieni in piedi! porta una gamba avanti e una dietro! fletti leggermente quella avanti! stendi quella dietro! apri il petto! porta le mani dietro! sguardo avanti! addome attivo! switcha la gamba! stira tutta la catena posteriore! puoi farci i glutei femorali! inspira ed espira! girati! pronta a me! disegna un più con le braccia! tira tutta la fascia dei tricipiti e dei deltoidi! cambia! abbiamo lavorato tanto in tenuta e in spinta sulla parte superiore! ok! fai un bel respiro! e butta fuori! ragazzi! come se davanti a me avessi un sacco di persone a cui dare un 5 di rituale e congratularmi per il tabata svolto insieme! ok! non mi resta che salutarvi sperare che questo video allenamento vi sia piaciuto e possa in qualche modo andare a riempire e a migliorare le vostre giornate! quindi il mio invito è continuare a seguire lei e tutti i miei colleghi sui nostri canali social la pagina youtube e la pagina facebook ed occhio ad instagram per le novità ragazzi anche oggi ci siamo andati insieme come sempre un piacere grande applauso grande 5 e buon proseguimento di giornata a tutti ciao! alla prossima! ciao! ciao! ciao!